Un torneo di tennis, quando è inserito in un contesto di eccellenza funzionale, può trasformarsi anche in un prezioso alleato per l'economia della zona che lo ospita. Al di fuori del mondo slam, il Masters 1000 di Indian Wells è l'esempio più virtuoso. Uno studio condotto dalla George Washington University ha stimato l'impatto economico generato dallo svolgimento della Dieci Giorni di Tennis Californiana sulla Coachella V.A.L.L.E.Y., la regione che ospita le strutture dell'Indian Wells Tennis Garden. L'edizione 2017 ha inciso per oltre 400 milioni di dollari, dollaro 406 e 602,107, 32 in più rispetto al rilevamento del 2014, e 187 in più rispetto al 2006. Come viene calcolato questo dato? Esiste una componente diretta, dollaro 262 e 323,940 nel totale del 2017. Che aggrega gli introiti derivanti dai turisti dedicati del torneo, dai fornitori, dagli sponsor e dagli organizzatori del torneo, e una componente indiretta, dollaro, 144 e 278,167, che invece stima la redistribuzione di questi introiti nell'economia della regione. Il totale indica una cifra di cui l'economia locale non disporrebbe, se il torneo si disputasse in un'altra zona.